è una motoguzzi gt 17 nata dal 32 al 39 per il reggio esercito usata nella campagna d'africa etiopia nonché abissinia è un sp1000 del 1978 e l'abbiamo interpretata in chiave vintage dove ad esempio il colore verde opaco arriva da un vuoto del 54 che abbiamo trovato dentro il museo eh sì la guzzite secondo me è una malattia che affligge tutti i possessori di una motoguzzi si guarisce c'è stata gente che ha cambiato ma c'è gente che torna l'italia la moto italiana per eccellenza dunque io vengo da monza e sapevo che oggi sarebbe stato un evento qua alla fabbrica di mandello quindi adesso insomma sono qua e voglio vedermi godermi le varie moto che ci sono in giro e vedere anche finalmente la fabbrica che non avevo mai visto sono venuti anche l'anno scorso al raduno quindi è la nostra seconda visita sì una california stone è la nostra prima guzzi è un bel mito italiano e un modo per viaggiare io e lui insieme stadio che sono qui bow sono qui sei a ov o o o Grazie per la visione!